Nel primo intervento del nuovo arcivescovo ha ripetuto spesso la speranza di camminare insieme, di stare uniti, di stare restanti. È un linguaggio che condivido, ma soprattutto sono idee che camminano su un uomo e su un sacerdote credibile. Napoli aveva bisogno di lui, perché Napoli in questi anni ha costruito speranza, umanità, cuore grande, fratellanza, beni comuni, sete di giustizia, tutti i termini che ho trovato nel suo intervento. Quindi c'è una piena sintonia, in questi ultimi mesi del mio mandato metteremo in campo il massimo della cooperazione e quindi penso che per Napoli non poteva esserci in questo momento di pandemia non solo sanitaria ma anche sociale arcivescovo.